La città e i trattori è un'occasione per tutti, anche nelle specie di esperienze. È già stato detto di fatto il 99% dell'assessore per tre di Milano e anche adesso da Viola. Siamo comuni che ci ritroviamo spesso, soprattutto negli ultimi anni appunto, rispetto a una supposta o così definita emergenza in particolare sui minori, quindi condivido pienamente l'analisi e la fotografia che ha fatto l'assessore di Milano e con le due proporzioni è la stessa situazione che abbiamo vissuto, in particolare nel 2022 con enorme difficoltà, come con il Cremora. Il punto, diciamo, sicuramente di contesto, l'ha ben detto anche Faust e a tutti voi, continuiamo in particolare nel nostro paese da affrontare dei flussi migratori che ci sono stati, ci saranno anche per cause, guerre, cambiamenti climatici e altri disastri nel mondo con degli strumenti e con un approccio d'emergenza. Quindi un flusso strutturale che può essere programmato e gestito anche per una buona accoglienza a livello nazionale ed europeo continua ad essere affrontato in emergenza e poi di fatto, ricordiamoci anche il periodo 2015-2018, lasciato in primis all'impatto sui territori e quindi sul Comune e poi piano piano, almeno nelle precedenti emergenze, sbarchi di quegli anni, si è arrivati anche a qualche cambio normativo e a un quadro di riferimento e di accompagnamento diverso da quello dell'oggi. Quindi il tema del contesto in cui ci muoviamo non è banale. va abolita la Vosifili, non abrogata o modificata, va abolita per una programmazione dei flussi sia per gli adulti e anche per i minori. Sappiamo il regolamento del Duplino a livello europeo ed altro. Ma aggiungo, cosa che non ha detto Viola, che siamo anche in una regione, la regione Lombardia, che contrariamente, non perché l'erba del vicino è sempre migliore, ma in parte lo è, non c'è nessun tipo di riferimento, di piano, di anche qui gestione e programmazione rispetto a un territorio regionale che è per ovvi motivi, la Lombardia operosa, terra di arrivo di tanti, non ce l'abbiamo. La regione Emilia Romagna, non da adesso, da circa 20 anni, più o meno, vengo anche da un'esperienza, appena di fare l'assessore, in questo ambito ha un piano regionale che si chiama terra d'asilo e a cascata, quando c'erano le province, i piani di zona, gli enti locali, ha un lavoro di regia e anche di sinergia con tante realtà e istituzioni molto importanti. Se pensiamo che la sanità è oggetto di delega regionale, per fare un esempio, e quindi qui in Lombardia, al di là di essere co, a Cremona, a Milano, ci manca anche questo livello regionale. Quindi l'ha ben detto l'assessore, lo ripetisco anch'io, pur con l'esperienza che possiamo portare, certamente i comuni si devono occupare della seconda accoglienza a livello nazionale della prima. Poi, come sempre accade, al di là delle norme, quello che è successo in questi ultimi anni, non solo dal 2000 a fine 2021, i giorni nostri, i comuni sono nelle condizioni di dovere far fronte alla prima e alla seconda, quei mezzi che hanno, in un contesto come sopra, e quindi per tutti, per tutti i comuni, che sentirete, al di là di Cremona, di Bologna, noi siamo affini come dimensioni di abitanti, poi penso Como 85.000, Cremona 71.000, ovviamente è un contesto diverso, qui in zona di frontiera, Cremona siamo il sud della Lombardia, e abbiamo gli arrivi, tra virgolette, in subordine da Milano e da città più grandi come Brecio. Quindi, per chiunque, enti locali di queste dimensioni, gestire, accogliere, cercare di garantire un luogo sicuro, come la normativa ci chiede, a 379 minori nel 2022, altrettanti nel 2023, non è cosa semplice per nessuno, neanche per i comuni di Cremona, con tutta la buona volontà dell'amministrazione o dallo staff del settore politico e sociale. Questo è un dato di fatto, e di fatto ci siamo anche trovati molto soli, comuni anche di diverso orientamento, forse anche tuttore, insomma, è ricominciato un dialogo in confronto con anche immigrazione, rispetto al Ministero, al Dipartimento di Immigrazione, Asile, eccetera, eccetera, però, diciamo, ci sono stati momenti veramente di solitudine, dove appunto ci trovavamo in cura tutti questi comuni, che per vari motivi erano destinatari di arrivi di minori stranieri non accompagnati, che come diceva l'assessore, scelgono loro o scelgono i trafficanti che li fanno portare le frontiere, perché questa è un'altra cosa che dobbiamo tenere in considerazione. E ci sono dei traffici. Questi ragazzi, parlo della caratteristica di Cremora, che arrivano su, cioè, mediamente, 300, appunto, dicevo, 80, poco più, poco meno, 2022, 2023, sono al 90% di origine egiziana, in particolar modo da quel città, viaggiano via terra, a volte anche in aereo, Cairo, Istanbul e Istanbul vengono caricati su mezzi di vario tipo, ma attraversano la frontiera, non sono quelle del game che abbiamo visto anche in film e documentari di Trieste, alcuni. La maggior parte passa la frontiera senza problemi. Arriva a Milano, da Milano, c'è qualcuno che gli dà un foglietto, gli dice vai a Cremora, piuttosto che a Recco, piuttosto che a Cremora, perché c'è un passaparola a Milano, non da poco. Quindi, i ragazzi arrivano qui, con già alle spalle comunque un contatto con queste persone, con un debito, che tendenzialmente si aggira tra i 6-8 mila euro, lo dico perché, poi ci arrivo, se mi date qualche minuto ancora, al di là della figura molto importante, ci ritorno, del tutto le volontarie, previsto dalla legge Zampa, legge del 2017, quindi anche relativamente nuova nella sua implementazione, e così, obiettivi, però, è una buona legge, perché prima, tutto ciò, a livello normativo, a livello dei servizi, si operava ovviamente, sulla base di una normativa, che riguarda la tutela, e il principio del supremo interesse, del minore, diciamo, ovviamente, equiparandola, in tutti i suoi aspetti, ai minori, che fossero italiani, piuttosto che francesi, in realtà, poi, con la legge Zampa, vengono evidenziate, dalle specificità, e anche la figura del dottore volontario, dicevo, oltre a figura del dottore volontario, avvengono così tanti, io stessa, fino al 2017, l'assessore dei servizi sociali, era comunque nominato per la tutela, nel periodo, negli sbarchi, 2015-2018, io sono arrivata a avere 233 tutele, i minori stani erano accompagnati, ovviamente c'è il servizio, c'è la cooperazione sociale, le associazioni che seguono, ma, se devo firmare per un'estesia, deve andare il dottore. Questa è una cosa che non andava bene, a livello europeo, era una tipicità italiana, e quindi la Zampa inserisce, il dottore volontario, che è un grande aiuto, ma, considerato l'afflusso e l'arrivo in città, io stessa ancora, in accordo con i tribunali dei minori di Brescia, della procura di Brescia, con cui c'è una buona collaborazione, che sono gli elementi competenti per il nostro territorio, attualmente ne ho ancora 23-24 di tutele, quest'anno sono arrivata a 150, e quindi, online, perché facciamo quest'udienza online, ancora, altrimenti non riuscirei a andare a Brescia, praticamente, quasi tutti i giorni, ascolto da due anni e più, tantissimi ragazzi in udienza, l'udienza viene fatta, per ascoltare il minore, in particolar modo, anche per decidere, se proporre il proseguo amministrativo e appunto del suo futuro. E questi ragazzi sono tendenzialmente egiziani, come dicevo, lei parlava giustamente di rintraccio, che è un termine tecnico, ma è un po' diverso, a Cremona si presentano spontaneamente, o ai carabinieri, o alla Polizia di Stato, che poi chiama il pronto intervento sociale del Comune, dopo il fotorrassegnamento, per l'accoglienza e il collocamento in un luogo sicuro. Quindi non sono reperiti, come la norma dice, sul territorio comunale, ma no, arrivano neanche più ai servizi sociali, ma direttamente alle forze dell'ordine, con cui, è stato già detto, si collabora e quindi poi il passaggio successivo appunto è il capo al Comune. Quindi, tendenzialmente egiziani, tendenzialmente al limite della maggiore età, 17 anni, 17 anni e qualche mese e quindi, rispetto a questa specificità o anche un po' adificità, la nomina poi è in capo all'assessore. Perché poi, è già stato detto, l'ha detto bene giusto all'inizio della mattinata, i tempi per poter mettere in campo anche un progetto educativo, un progetto formativo, sono brevissimi, ma non perché il Comune, Cremona o altri non lo vogliono, ma perché molto spesso, anzi, quasi sempre, direi, sono gli stessi ragazzi che ascolto e che devo tutelare, quindi, c'è una relazione in servizio sociale che dice che cosa è stato fatto, c'è una relazione di chi ha un'accoglienza e viene in udienza e c'è il minore e il mediatore. Molto, ma molto spesso è il minore che dice ai 18 anni io esco, voglio andare a lavorare, cosa fanno? Gli uniche parole in italiano che sanno? cartogesso, piastrellista, muratore. È il contrario, siamo noi che rispetto magari a contatti con la famiglia oppure vediamo che almeno ha frequentato qualche livello a scuola nel suo paese a Fayum in Egitto piuttosto che nei colloqui il ragazzo perché anche qui sono praticamente tutti, tutti maschi non ci sono ragazze in arrivo capiamo che magari anche una scelta sofferta ma la pressione da casa la necessità di ripegnare il debito fa sì che con varie sfumature però il 99% ti dice no io presego amministrativo non lo voglio quando ai 18 anni esco esco perché hanno già anche dei contatti tendenzialmente poi non si fermano neanche in città che è una provincia ma ci parlano appunto di altre realtà e da quello che abbiamo appurato ovviamente seguendo le finiscono poi sfruttate dai loro stessi connazionali in tantissimi cantieri e questo è un tema tanto è vero che ci siamo attivati l'anno scorso e con alcune associazioni specializzate come una io e ma anche con altre realtà abbiamo cominciato intanto che sono in accoglienza anche a fare degli incontri con questi ragazzi rispetto al tema dello sfruttamento lavorativo da quante ore puoi lavorare perché ripeto a volte il 99% dei casi sono i connazionali che li ingaggiano in imprese di loro gestione il riposo e insomma tutta una serie di piccole indicazioni ma soprattutto poi oltre a lasciare il contatto del nostro servizio lasciamo il numero vero che è sulla tratta e sullo sfruttamento in caso di necessità questo lo facciamo e lo stiamo facendo perché dietro a questi giri oltre all'accoglienza e poi veramente vado a parlarvi solo di una piccola esperienza nostra di Cremona ci sono persone veramente di un crimine organizzato e anche feroce non so se avete letto la notizia ancora credo settembre o l'estate scorsa di un ragazzino egiziano trovato senza gambe e senza braccia in un baule a Genova questo ragazzo aveva tentato di denunciare il suo giro di sfruttamento è finito così e il video di quella notizia e non solo altri video i nostri ragazzi in accoglienza se lo sono fatti circolare con milioni di visualizzazioni e quindi sono veramente non solo affrontano un viaggio complesso alle loro età non solo devono ripianare appunto questi debiti ma poi il rischio è che non riescano poi anche una volta ripianato il debito a uscire da questi circuiti di sfruttamento e questo è un grande tema che ovviamente riguarda moltissimo l'accoglienza è tutto un sistema che a livello nazionale non abbiamo cerchiamo di informarli ultimamente in accordo anche con i servizi per il lavoro che collaborano con noi sia pubblici che privati quando il ragazzo ci dice vado a lavorare da mio zio da un parente da un cugino perché ci sono e anche qui non tantissimi però ad esempio l'anno scorso una decina di ragazzi abbiamo trovato che aveva già il fratello appunto lo zio e entro il quarto grado insomma c'è tutta la legge anche in questo senso può essere affidato direttamente al parente ma ovviamente non te lo dicono prima perché hanno paura di non stare in accoglienza di non avere i documenti il permesso per la minorità che in tempo potrebbe essere riconvertito anche per il lavoro adesso anche qua le normative cambiate rispetto alle autorizzazioni del rispetto al lato provinciale per il lavoro cioè dipende da Roma non più dal livello provinciale nulla osta comunque giusto per complicare ovviamente sempre la vita a tutti perché le norme in questi anni sono state fatte ovviamente per frapporre degli ostacoli non per agevolare chi è già anche arrivato nel nostro paese dicevo appunto una volta che hanno cioè temono appunto di non avere il permesso quindi non ci dicono che hanno il parente l'amico o altro quindi una volta che ci dicono questo che perché noi gli chiediamo anche in udenza ma beh va bene esci ma dove vai a dormire cosa fai dove vai a lavorare c'ho l'amico di mio papà che mio papà ha contattato vado a San Giovanni piuttosto che a non lo so in un altro in un altro comune bene che lavoro fai il muratore adesso stiamo cercando di per avere almeno un indirizzo ecco perché non si appunto non finisca per strada perché qualcuno poi è uscito dopo sei mesi anzi visto che siamo vicino al confine c'era il triplo vado in Svizzera a lavorare dopo sei mesi si sono accorti che non era quello che pensavano e sono tornati ai servizi del comune Cremona noi purtroppo diciamo una volta che si è uscito da questo percorso e sei maggiorenne facciamo veramente molta fatica a riprendere il discorso dell'accoglienza quindi chiediamo queste informazioni e chiediamo anche laddove è possibile e ce lo mandano il ipotetico contratto di lavoro questo appunto a loro tutela certamente è un lavoro non semplice che è considerato appunto dicevo il numero che abbiamo in gestione non ripeto quello è stato detto anche noi abbiamo comunità Udine piuttosto che a Borgolo in Bartidone piuttosto che in alcune città dell'Emilia Romagna nelle Marche Campania e varie la nostra specificità che ogni tanto ci chiamano appunto come Cremona è un po' quello che abbiamo chiamato affido potenziato che non è l'affido familiare la legge è sempre la 184 se non vado errato dell'83 quindi sempre di affido parliamo ma al di là della mancanza di posti in generale anche noi abbiamo siamo nel SAI è una decisione volontaria il Comune Crevura è iniziato nel 1999 si chiamava azione comune poi è diventato piano nazionale asilo poi è diventato SPRA poi è diventato SIPRO e adesso è SAI e abbiamo posti di accoglienza per adulti abbiamo ampliato qualche anno fa da 47 80 per adulti e per i minori da 33 a 113 quindi attualmente abbiamo 113 posti SAI per l'accoglienza quindi non è questo perché già negli anni 2005-2006 siamo stati terra d'arrivo di tantissimi ragazzini kosovani e anche adesso oltre agli egiziani dalla maggior parte sono kosovani che come dire basterebbe un accordo tra paesi perché voglio dire insomma poi sono persone che hanno qua ripeto famiglie eccetera eccetera comunque in quel contesto abbiamo applicato in modo diciamo con l'associazionismo con il terzo settore questo che chiamiamo affido potenziato cioè un appartamento di civile abitazione in una casa con un capocasa che è l'affidatario quindi funziona giuridicamente come per l'affido ma insieme vivono 4-5 ragazzi che ovviamente fanno una vita in appartamento e durante il giorno però accedono a servizi di urni o al CPA per la scuola o se qualcuno si iscrive per lo sport piuttosto che altre attività che fanno anche appunto con diverse realtà della città in questo percorso poi abbiamo chiesto ad alcuni ragazzi che sono diventati maggiorenni che avevano diciamo così grazie anche al rilievo degli educatori delle varie realtà un profilo abbiamo proposto un percorso di formazione a minore straniero accompagnati diventati maggiorenni che abbiamo chiamato esperti per esperienza formandoli su un sistema dei servizi della città la città cosa offre compreso anche il turismo piuttosto che altre cose e attualmente in diversi appartamenti il capocasa è un ex straniero minore straniero accompagnato che da un punto di vista anche educativo e della gestione funziona perché ovviamente purtroppo esperto per esperienza ha vissuto dal viaggio ad altri percorsi quello che i ragazzi in accoglienza vivono questo ci ha consentito di ovviamente poter archivare diversi posti non è facile neanche questo e di dare delle risposte appunto in particolare durante questo periodo di forte emergenza e di forte afflusso quindi abbiamo anche noi posti sai che è confermo quello che ha detto Piora il sistema che tutti noi proponiamo a comuni anche del nostro territorio piuttosto che quando appunto ci confrontiamo che è strutturato che è finanziato al 100% negli anni passati non era così ci siamo arrivati con appunto proposte stimoli commenti locali al ministero di turno perché capite bene che in 20 anni più di sistema ne sono cambiati di governo e nei 113 posti sai abbiamo anche posti per i neomaggiorelli quindi i ragazzi che vanno in proseguo amministrativo che vuol dire fino ai 21 anni e capite che non è banale anche per un comune di Bologna o di Lecco investire risorse economiche e arrivare fino ai 21 anni quindi anche il sistema sai ci aiuta di questo tipo attualmente abbiamo circa 212 ragazzi invece extra sai cioè posti reperiti in città in provincia in regione fuori regione coperti con rimborso di 100 euro al giorno e direttamente tramite la prefettura il ministro dell'interno e abbiamo perché appunto siamo arrivati anche a questo dopo molte riflessioni la prefettura l'anno scorso maggio ha attivato un CAS minore per 25 posti tutto era aperto prima ancora di arrivare lì ho dovuto attivare una struttura alberghiera perché non c'era posto da nessuna parte in città in Italia in Emilia Romagna e non c'erano risposte da nessuno quindi per 4-5 mesi non solo in Cremona Bergamo Prato Firenze e altre città che sono stati oggetto di arrivi hanno dovuto arrivare a questo ovviamente facendo in modo che i servizi essenziali fossero fossero garantiti sicuramente rispetto diciamo a possibile progettualità l'affido potenziato l'affido omoculturale l'accoglienza in famiglia anche con il coinvolgimento delle comunità insomma egiziane o altre uno strumento anche di trovare contatti con i parenti che ci sono comunque in Italia importante e chiudo sulla questione educativa altrettanto molto importante come si diceva trasversalmente sono ragazzi molto fragili tanti hanno problemi psichici perché diverse arrivano come vi ho detto ma ho assistito a udienze anche ovviamente di ragazzi che hanno fatto il giro della Libia con torture con carcerazioni botte e altro e quindi anche la difficoltà di gestire poi dal punto di vista psichico e anche comportamentale non sono facili come vi diceva Bertellè non sono criminali dati però un attimo ovviamente che per soldi o per guadagnare qualcosa dal microspaccio ad altre attività ci cadono quindi così come non è facile proporgli un percorso educativo formativo noi abbiamo stretto un'alleanza veramente importante con diversi enti professionali della nostra città che rischiamo peraltro di chiudere perché non ci sono ragazzi cremonesi che vogliono fare il curatore il panettiere il cuoco il cameriere o altre attività che questi enti proporzano questi ragazzi hanno anche molta manualità perché poi nel loro paese fanno già qualche lavoro altro chi il pasticcere chi aiutava sul papà nei campi o altro quindi diciamo la proposta che riusciamo a fare è proprio quella di una formazione anche professionale e anche di avere delle qualifiche perché dove c'è il tempo per iscriverli dove non sai quando non se ne vanno che restano insomma quantomeno anche in termini vandrà il curatore ma una testata una qualifica un livello in mano ce l'avrà e la materia è molto complessa poi c'è anche tutto il tema dei viaggi mi fermo qui perché abbiamo preso troppo tempo grazie grazie